Ciao a tutti, in questo video voglio presentare una ricetta di Monica T. Prima di affrontare questo tema, vedere questa bella ricetta, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, la ricetta qual è? Dolcetti alle mele. Allora, vediamo un attimino i dolcetti alle mele. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono due mele, meglio se biologiche, un pizzico di sale marino integrale, 125 grammi circa di farina di mandorle, un cucchiaio di marmellata d'arance e lo zenzero. Come si procede? Allora, bisogna sbucciare le mele, grattugiarle, cuocerle con un pizzico di sale per 5 minuti, poi far raffreddare e unire la marmellata e la farina di mandorle, fare delle palline e schiacciarle leggermente, disporle sulla carta da forno e cuocere la cottura a 180 gradi per circa 15 minuti e avete pronti i dolcetti di mele. Per questo video è tutto, ringrazio Monica T. per la ricetta, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!